Nuovo appuntamento per il caffè scientifico organizzato dall'Università di Trento, che con farsi un'idea invita giovani e adulti, studenti e lavoratori al ciclo di incontri che vede i docenti dell'Ateneo Trentino chiamati ad approfondire temi di interesse comune e a portare di fatto le lezioni fuori dall'aula. Dopo l'esordio fortunato del professor Marco Ronchetti, che ha dato il via alla stagione 2011 di farsi un'idea parlando di lavagne multimediali, a scendere dalla cattedra per sedersi a un tavolino nel bar Città di Trento tra un cappuccio e uno spritz, sarà il collega Alessandro Quattrone, professore ordinario alla Facoltà di Scienze. A lui toccherà approfondire un tema molto sentito, quello delle nuove frontiere della medicina personalizzata. L'appuntamento, come sempre, è giovedì alle 17 al bar di Piazza Battisti, o Piazza Italia che dir si voglia. Tra dubbi e curiosità sollevate dall'uditorio, si spazierà dall'investigazione delle basi biologiche delle malattie alla cosiddetta era genomica, dalla modificazione degli approcci terapeutici alle nuove frontiere della pratica clinica. Ma sentiamo direttamente dal docente che condurrà il dibattito informale, allargato a chiunque voglia partecipare, qualche anticipazione sul tema del secondo caffè scientifico. Professor Quattrone, qual è la scoperta scientifica che ha rivoluzionato la biologia e aperto nuove strade allo studio delle malattie? Direi senza dubbio che si tratta della decifrazione del genoma umano. Il genoma umano era ignoto fino a dieci anni fa. Dieci anni fa è stato sequenziato completamente e ultimamente affinato negli ultimi anni. Abbiamo uno strumento molto importante adesso. Questo scenario ha aperto le strade alla medicina personalizzata. Cosa si intende? Sì, il concetto di medicina personalizzata precede in realtà questo pietra miliare della ricerca biomedica. Si intende la possibilità di realizzare delle terapie su base individuale. E l'individualità, in questo caso è proprio l'individualità genomica. La differenza nella sequenza del genoma è la quale determina in qualche misura la risposta ai farmaci. Concretamente per il paziente che cosa cambierà? Cambierà la possibilità di avere appunto un trattamento che dovrebbe realizzare una minore tossicità dei farmaci. I farmaci sono per loro stessa natura inevitabilmente anche tossici, oltre che curativi. E' proprio perché il metabolismo degli stessi ha base individuale, ha base genomica. E quindi riusciremo a dosare meglio i farmaci. Per arrivare invece a delle molecole, su base personalizzata, questo richiederà molto più tempo e molto più studio. Le terapie su base genomica andranno anche a incidere sul triste divario tra popolazioni ricche e popolazioni impoverite rispetto all'accesso alle cure? Questo non è facilissimo rispondere. Fino a tre anni fa avrei detto che semmai il divario sarebbe aumentato. In virtù del fatto che le terapie su base genomica avevano, meglio, il sequenziamento dei segmenti del genoma aveva un costo elevato. Adesso questo costo è ridotto moltissimo grazie all'introduzione di tecnologie nuove, tecnologie da salute avanguardia da 3-4 anni. E quindi è possibile che questo tipo di approcci possano essere utilizzati su larghi strati della popolazione e anche in paesi in via di sviluppo, nell'immediato futuro. Il vostro centro di ricerca di biologia integrata è impegnato su fronte di un particolare tumore che colpisce i bimbi. Ce ne vuole parlare? Sì, questa è una delle linee di ricerca che abbiamo al Cibio. Si tratta del neuroblastoma, un tumore che purtroppo colpisce bambini da 0 a 5 anni, è diagnosticato in questa fascia di età. Cerchiamo di utilizzare quegli strumenti, appunto gli strumenti della genomica, per proiettare verso approcci terapeutici nuovi. Abbiamo qualche interessante indicazione che la cosa è possibile. Negli ultimi tempi si parla molto di malattie rare. È per cui sono in aumento o dipende da altri fattori? No, direi che le malattie rare non sono in aumento. Il motivo per cui se ne parla è sicuramente una maggiore consapevolezza da parte dell'opinione pubblica, una maggiore informazione, grazie anche a internet, a strumenti nuovi. Le malattie rare sono in tutto numerosissime, sono circa 6.000, colpiscono ciascuna una frazione piccola della popolazione. E questa è la ragione per la quale è difficile realizzare una ricerca specifica. Le industrie farmaceutiche non investono facilmente su fette di mercato ridotte. Purtroppo le malattie rare sono a base genetica, come si dice, mendeliana, cioè la lesione di un singolo gene, e non abbiamo strumenti ancora di terapia importanti. La terapia genica potrebbe essere l'unico, forse per ora, strumento realmente efficace, ma non riusciamo a farla funzionare in modo adeguato. Quindi per queste patologie occorre uno sforzo davvero intenso di ricerca, come anche per ovviamente le malattie complesse, le malattie neurodegenerative, il cancro, le malattie che interessano invece ampi strati, più ampi strati della popolazione. La terapia genica potrebbe essere l'unico,